Come abbiamo organizzato una sessione speciale sull'utilizzo della tecnologia taglio laser nell'ambito di strutture metalliche tubolari? In questa sessione speciale c'erano sei interventi per presentare i risultati ottenuti nell'ambito di un progetto di ricerca europeo finanziato da Commissione Europea. In questo progetto nove partner, di cui cinque accademici e quattro industriali, hanno studiato in un modo multidisciplinare come si potrebbe sfruttare al meglio la tecnologia taglio laser che è normalmente utilizzata in altri settori più avanzati, tipo automobilistico, nell'ambito di strutture metalliche. Il progetto si sta per concludere, a dicembre 2019 finirà, quindi abbiamo già molti risultati sperimentali ottenuti che dimostrano un netto guadagno se utilizzato taglio laser in modo efficiente a creare nodi in acciaio particolari che noi li abbiamo chiamato soluzioni last icon.